industrial se per le tue barre scegli la base industrial entrerai nel cuore pulsante della produzione con il ritmo incessante e ripetitivo delle macchine e dei nastri di trasporto qui gli imballaggi d'acciaio come i barattoli scatolette bombolette prendono forma in altre fabbriche vengono utilizzati e ora scrivi le tue barre almeno due strofe e un ritornello scegli una delle parole ricrea e non dimenticarti di inserire la parola acciaio in questo modo la tua canzone sarà considerata valida comincio io tieni bene il mic che così è storto butta qualche rima sopra il nastro di trasporto scegli tu la base e sfonda questo beat differenzia l'acciaio butta le rime qui per un mondo più pulito più vivo e non più inquinato e da cambiare l'aggettivo scarica l'app comincia ricci rap non voglio il video da mille rec ricci ricci rap ricci ricci rap ricci ci sono rime baciate incrociate alternate o nessuna rima hai tantissime strade per veicolare il tuo messaggio e se sei a corto di rime usa le assonanze le consonanze ma se vuoi essere un rapper dalla metrica impeccabile incastra più rime possibili se hai scritto le tue barre ora copiale qui